salve a tutti benvenuti in questa nuova puntata di exit my 77 sono io finalmente mi mostro mi mostro davanti a voi ha un vlog si ha un vlog la voce può risultare bassa infatti secondo me lo sa non ho la benché minima idea di cosa parlare e niente perfetto da adesso in poi cercherò di fare qualcosa con me stesso si perché perché con un'altra persona con me stesso proprio con me faccia cercherò di fare delle montature in cui giocherò e mi riprenderò in video e solamente che non so che programmi usare per fare questo quindi consigliatemi perché sono molto inesperto e intanto abbiamo qui un nostro protagonista del nostro canale in pratica mi presento pan pan saluta la gente pan adesso hai avuto il tuo attimo di famosità che non si dice così ciao bene faccio anche questo video per annunciarvi che non so se lo farò per i 200 iscritti o per prima e per annunciarvi anche che in questo video lasciate un commento con le domande che volete farmi su di me tipo qual è il mio gioco preferito quanti anni ho che scuola faccio non dove abito perché non lo dico neanche morto e fatemi delle domande io farò un video apposta dove ci sarò ancora io dove risponderò alle vostre domande citandovi anche e bene io non sapevo cosa dire in questo video infatti non ho detto molto e bene io sono exitmai77 so che è durato poco ma ci sono io ciao a tutti salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di exitmai77 ma perché mi ruba la postazione quando uno deve fare un video pan c'è la tv saluta la gente saluta la gente visto che vuoi il post e non mi fai fare video vabbè lei ha qualcosa da dire niente meglio così saluti qualcuno in particolare uno youtuber che conosci ti sei offeso tu non vuoi apparire telecamere gente è fatta così ti sei offeso tu non vuoi